Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi . Così non avete mai visto Mara Venier. Dentro casa è un vero caos, le immagini sono spuntate attraverso i social Un personaggio come Mara Venier, all'interno dell'attuale palinsesto televisivo, è davvero difficile da trovare Soprattutto perché la bionda conduttrice in questi anni ha catalizzato attorno a sé l'attenzione di un pubblico che ha apprezzato tantissimo quel senso di grande empatia che spesso la stessa zia Mara mostra anche quando si ritrova sul piccolo schermo a condurre un determinato programma In queste ore l'abbiamo vista impegnata con una voce per padre Pio, andato in onda sulla Rai Questo a dimostrazione di quanto l'azienda pubblica creda proprio nella Venier, ed in quello lei stessa ha saputo costruire in questi anni di carriera Il rapporto con il pubblico, quel senso di maternità che la stessa Mara ha saputo creare attorno alla sua figura Mara Venier.La vedremo ancora nella prossima stagione televisiva? Difficilmente si potrebbe pensare il contrario Domenica in è uno dei format sui quali la Rai crede di più, anche perché monopolizza l'attenzione dei telespettatori in un giorno così particolare come la Domenica Sembrava stessa per mollare tutto, la zia Mara, ed invece è rimasta saldamente al timone mostrando tutto il carattere di una donna che ha fatto bene il suo lavoro in questi anni Certo, le difficoltà non sono state poche. Soprattutto negli ultimi mesi, che hanno visto una Venier frastornata da diversi problemi di salute Lei, però, si è rimessa sempre in piedi, tenendo bene a mente l'importanza che ha all'interno delle economie televisive della Rai, ma anche mostrando grande legame con il suo lavoro ed il pubblico che si è tanto affezionato a lei Mara Venier, così non l'avete mai vista.E così anche sui social il successo di Mara è raccontato dai numeri Tantissime persone la seguono su Instagram, vogliono conoscere quello che fa durante la giornata ed anche la sua vita privata Dell'aspetto sentimentale ormai sappiamo tutti. La storia d'amore con Nicola Carraro prosegue a gonfie velle Un matrimonio premio d'amore, visto che entrambi pubblicato spesso contenuti che riguardano il loro vissuto coniugale In queste ore, però, abbiamo visto una Mara inedita. Un video pubblicato su Instagram ci mostra la Venier nel pieno di un momento danzerino, scatenata e ripresa proprio dallo stesso Nicola Le immagini sono finite sul web, ed i fan di Mara hanno evidenziato proprio quel senso di energia che la Venier spesso mostra al pubblico, al netto dei suoi 71 anni Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video